Musica Bentornati a Una finestra sul mondo, sesta puntata e oggi parliamo di un argomento che in questo periodo va molto di moda. Parliamo di sport, eh sì perché abbiamo vinto da poco gli europei di calcio e non potevamo non parlare di sport ovviamente in questa puntata. E beh, parliamo un po' di sport in generale. Innanzitutto il calcio, come sappiamo bene, è lo sport diciamo più seguito in Italia. Pensate solo che la finale degli europei è stata seguita in televisione da 20 milioni e mezzo di italiani, quindi praticamente tutti eravamo davanti alla tv a tiffare la nostra nazionale. E poi ovviamente sono molto seguite la Serie A, la Champions e tutte queste cose qua. Quindi insomma il calcio rimane anche il più praticato nel nostro paese. Pensate che secondo dati Istat 4 milioni e mezzo di italiani praticano calcio, quindi insomma è un bel numero ovviamente. E poi continuiamo parlando del tennis. Il tennis è il secondo più popolare nel nostro paese. È praticato da circa un milione di atleti. E poi ovviamente anche molto praticati sono il nuoto, lo sci e il ciclismo. Soprattutto il ciclismo in questi ultimi periodi ha avuto un grandissimo successo davvero. E poi gli italiani amano anche molto seguire le gare di MotoGP, di Formula 1 e quindi insomma un grande successo anche di questo. Ma adesso parliamo anche di sport legato al nostro benessere fisico. Per esempio lo sport è molto importante per la nostra salute, per il nostro benessere fisico. Pensate che secondo i dati Istat che si riferiscono al 2019 il 35% degli italiani pratica almeno uno sport nel tempo libero, il 26% in maniera continuativa e l'8% saltuariamente. Quindi insomma buona parte degli italiani pratica sport, però molti invece non fanno per nulla attività fisica e questo crea grossi problemi. Sì perché se non si fa sport già fin da piccoli si possono poi verificare dei problemi come sovrappeso, come obesità. Pensate che in Italia il 20% dei bambini è in sovrappeso e gli obesi sono il 9,4%, quindi sono davvero tanti. E bisogna ovviamente cercare di evitare questi problemi, si può grazie appunto fare sport magari già da piccoli. E poi ovviamente fare sport è importante anche per le persone anziane. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, appunto è importante fare sport sia per gli adulti che per gli ultimi 65 anni e lo devono fare almeno 150 minuti alla settimana, quindi insomma è un buon numero. E questo perché? Per ottenere benefici cardiorespiratori e quindi insomma è importante fare sport da quello che abbiamo capito. E adesso chiedo a voi, ma praticate sport di solito? E se sì, quale? Bene, il nostro inviato come sempre è andato un po' in giro al mercato e ha fatto due domandine su questo argomento. Vediamo un po' cosa gli hanno risposto. Secondo lei è giusto che i genitori facciano praticare sport ai loro figli già da piccoli? Sì, perché conoscono nuove persone, si muovono, si tengono in forma. Sì, secondo me sì, come attività fisica secondo me è importante per un bambino, anche per relazionarsi con gli altri bambini sugli sporti di gruppo. Sì, assolutamente, perché i bambini si trovano in un gruppo diverso dalla scuola e conoscono nuovi compagni che possono poi continuare tutta la vita e poi anche proprio per un aspetto fisico di benessere per il bambino è importante sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista fisico. Sì, è giustizia e indispensabile perché anzi io sono pro sport di gruppo perché trovo che i bambini inizino a socializzare maggiormente e siano anche più preparati a quello che verrà e riescono a far gruppo. Certamente, perché comunque lo sport è un modo per stare con gli altri, per aggregarsi e per fare comunque delle attività sane fin da piccoli e che quindi capiscano i bambini cosa vuol dire l'aggregazione, cosa vuol dire stare con gli altri, cosa vuol dire la collaborazione per lo sport. Certamente, sì, sì, è un modo per insegnarli giocando come la vita, lo sport ha delle sue gerarchie, soprattutto secondo me gli sport di squadra sono l'ideale per soprattutto i maschi giovani perché gli danno già un'idea di come funziona poi la società in futuro e poi perché i bambini si abitano a stare all'aria aperta, lo sport anche quando sono piccoli va fatto con qualsiasi tempo è proprio un modo per temperarli sia a livello mentale che a livello fisico. Consiglierebbe una persona anziana di fare attività fisica e perché? Sì, in maniera adeguata, sì. Sì, assolutamente sì, perché è importante iniziare da piccoli ma continuare tutta la vita per appunto sempre un aspetto del sentirsi in forma, del sentirsi in grado di fare qualcosa, per loro è importante anche per gli anziani. Sì, lo consiglierei perché almeno si invecchia più lentamente secondo me. Certo, anche alla persona anziana perché comunque lo sport serve per mantenere il fisico sempre giovane, sempre in allenamento, lontano da malattie sia fisiche che mentali perché secondo me lo sport apre anche molto la mente. Certamente perché lo sport mantiene giovane, come dicevano i romani, men sano e incorpore sano, quindi è assolutamente essenziale. Sì, perché si mantiene in forma e muovere comunque il corpo fa bene alla salute. Ha mai praticato qualche sport? Sì, ho fatto danza da quando avevo appunto 5 anni, poi alle medie ho smesso e poi adesso mi alleno, comunque palestra, cose così, ma sempre per un aspetto appunto del sentirsi in forma, dello stare bene, di come ci fa sentire lo sport. Ma io ho fatto calcio per un po' di anni, però adesso continuo a fare sport, vado in bicicletta o faccio palestra e mi tengo in forma così. Sì, io di solito pratico lo yoga perché è un connubio tra sport e comunque pace interiore e rilassamento e quindi sì, trovo che comunque faccio bene all'ospetto. Poi io cammino, vado in bicicletta e quindi sì. Sì, ho praticato sci, tennis, basket, anche se sono piccolo, quindi poi molto calcio, giudo. Atletica, ho fatto danza, nuoto. Sì, fin da piccolo calcio, poi tutti i bambini, poi sono pugilato e sono contento di queste attività che ho svolto. Quale sport segue normalmente? Maggiormente il calcio, però seguo quasi tutti gli sport, mi piacciono. Ma in realtà alla televisione non seguo sport in particolare, mi piace soprattutto praticarlo se posso, ma non seguo trasmissioni sportive. Beh, io seguo il calcio, seguo il calcio e lo ripeto, col tempo non guardo più tutte le partite, seguo quelle più importanti, ma assolutamente il calcio. Nessuno in particolare, però se c'è l'Italia mi fa piacere guardarlo. Eh, calcio, seguo il calcio. Ma il calcio insieme a lui o comunque qualsiasi evento sportivo, anche appunto le Olimpiadi è bello proprio guardarle, le seguire di sicura. Quali emozioni hai provato durante la finale degli europei di calcio? Ero felicissimo, cioè non uso parole più. Ero felicissimo, volevo buttarmi vestito nella fontana della stazione, che io sono di Biella e assolutamente, un evento storico da festeggiare, sono uscito con la mia bandiera. È stato molto bello, poi io sono abbastanza tifosa. Beh, gioia, però finita lì, festeggiato a casa con la famiglia e basta, finita lì. È stato bello, io non seguo molto il calcio normalmente, però invece il senso di unione, di appartenenza, tutti insieme a gioire, è stato proprio qualcosa che è uscito fuori la gioia finalmente. È più che un'emozione, sì sì, è una leggiore più grandi da quando segue il calcio. Bene, allora tutti gli intervistati concordano sul fatto che sia importante praticare sport già fin da piccoli, per ottenere benefici a livello fisico e anche per relazionarsi insieme agli altri. Quindi conoscere nuovi bambini e perché no, anche fare delle nuove amicizie. Molti ritengono importanti soprattutto gli sport di gruppo, gli sport di squadra. Poi ovviamente consigliano tutte le persone anziane di praticare attività fisica per mantenersi in forma. Lo sport, l'attività fisica mantengono giovani, quindi bisogna assolutamente farlo. E poi la maggior parte praticano molti sport, tra cui calcio, palestra, danza. Questi sono gli sport un po' più gettonati. E la maggior parte segue il calcio e gli eventi sportivi importanti, come per esempio gli europei, oppure adesso iniziano le olimpiadi, quindi ovviamente le seguiranno. E poi vabbè, per la finale degli europei hanno provato grandissime emozioni e anche ovviamente un grande senso di appartenenza alla nostra nazione. Anche se però non dovremmo solo provare questo grande senso di appartenenza durante le partite di calcio, ma anche per altre cose. Però insomma, incominciamo da qualcosa che va bene. Bene, grazie per averci seguito. Anche la sesta puntata termina qui. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Una Finestra sul Mondo. Ciao!